Ciao ragazzi, bentornati al mio canale, sono ASMR SLK, nel video di oggi come avete visto dal titolo vi porto al lavoro con me, ieri domenica ero di turno quindi ho preso la macchina e sono andato a lavorare un po' prima per farvi vedere un po' il posto dove lavoro, quindi abbiamo guidato da casa mia fino a Newport Beach, al Fashion Island, adesso partiamo col video perché è bello lungo, prima di iniziare come al solito le raccomandazioni, mi raccomando usate il link di Amazon nella descrizione e inoltre questo video che vedrete adesso lo vedete nel formato originale, quindi con me che parlo nella macchina, nel mio canale Music and Gaming, il link è nella descrizione e per favore iscrivetevi anche su quel canale se vi interessa ovviamente vedere queste immagini reali, chiaramente non è ASMR però tutte le informazioni le do dal vivo mentre guido, infatti in questo video parleremo molto della California anche in generale, vedremo anche una concessione alla Tesla, un po' tutto, il centro commerciale che si chiama Fashion Island dove il ristorante dove io lavoro è situato, ok? Partiamo col video, dunque ovviamente sono partito qui da casa con la macchina, ho comprato una nuova telecamera che si chiama Acaso ed è molto carina ed è quella che inquadra me mentre parlo in macchina, mentre guido, invece per la ripresa che vedete di fronte, in questo caso il garage, adesso che è all'inizio del video, sto usando l'iPhone 11 come al solito, allora praticamente come vedete sono vestito con la camicia bianca, la crematta nera, i pantaloni neri che noi in gergo chiamiamo da Pinguino e praticamente sto dicendo che vedrete con me a lavorare, cercheremo di guardare anche una concessionaria Tesla come vi ho detto anche nell'altro video, perché nel centro commerciale dove è il mio ristorante, del Fashion Island di Newport Beach, c'è una concessionaria Tesla un pochino meglio di quella dove siamo andati l'altra volta per provare di filmare le macchine, quindi adesso ovviamente queste strade già le conoscete, non sto uscendo di casa e sto guidando praticamente verso Newport Beach ed è praticamente la strada che faccio ogni giorno per andare a lavorare. ovviamente il video è un po' lungo e quindi approfitto per parlare in macchina, oltretutto in questo video l'audio è molto meglio perché ho comprato questo microfono che poi proveremo anche per l'SMR e questo microfono funziona sia con questi due microfoni quindi per l'SMR è ottimo ma anche funziona con un microfono esterno che vedete lì nella mia inquadratura mentre guido ho attaccato la cravatta e quindi l'audio è molto meglio in questo caso rispetto all'altro video diciamo crudo, naturale, vero, che avete visto su music e in gaming. In generale sto parlando un po' di come funziona il lavoro nel mio ristorante e un po' in tutta la California, il minimum wage che significa il minimo sindacale a ora pagato e adesso è 13 dollari, quando sono arrivato 15 anni fa era 8 dollari e mezzo per ora, quindi tutti quelli che lavorano nel ristorante guadagnano questi 13 dollari adesso da quando una delle cose buone di Obama è che dal periodo Obama quando era il Presidente degli Stati Uniti è che ha spinto questa legge per aumentare il minimo sindacale, quindi negli ultimi 5 anni anni ogni anno è stato aumentato un dollaro al minimo sindacale e dovrebbe arrivare a 15 dollari a ora, sarebbe dovuto arrivarci nel 2021 ma chiaramente con il problema virus sarà un po' ritardato, quindi negli ultimi 5 anni da 8 dollari è arrivato a 13 dollari, quindi tutti quelli che lavorano nel ristorante e in generale in tutti i negozi che prendono lo stipendio a base prendono 13 dollari a ora, ovviamente dipende dalle ore di lavoro al giorno ma faccio un esempio, un commesso guadagna 13 dollari a ora e lavora una media di 7 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, più normalmente però nel caso di questi negozi, soprattutto quelli un po' grossi, di compagnie importanti guadagnano anche le percentuali sulle vendite, nel mio caso è un po' la stessa cosa, io guadagno questi 13 dollari a ora più le mangio, ora questa era domenica mattina, io avevo lavorato già sabato sera e il centro commerciale era super busy, quindi c'era tantissima gente, avevamo circa 270 riservazioni per cena, quindi praticamente insomma in totale avremmo fatto forse più o meno 350 persone a cena dalle 5 alle 8 e mezza, questi sono gli orari in cui si cena qui a Los Angeles, Newport Beach meglio, ma comunque in California e in America in generale, anzi in America in generale la cena è anche più presto, dalle 5 alle 6 alle 7 praticamente, qui si mangia, si cena molto presto, quindi chiaramente sono riuscito insomma a guadagnare oltre alle ore che ho lavorato e sabato ho lavorato dunque circa 7 ore e qualcosa, ovviamente ho guadagnato le mance e normalmente con un lavoro da cameriere è uno dei motivi per cui ho smesso di fare il manager e che guadagno praticamente di più come cameriere che come manager, considerando che come manager lavoravo 10 ore al giorno con uno stipendio fisso all'anno, c'è un contratto ogni anno e quella era la cifra, mentre invece come cameriere si può lavorare molto di meno, 4-5-6 ore al giorno e 5 giorni a settimana, 2-3, quelli che volete o potete anche lavorare in due ristoranti, uno nell'orario di pranzo e uno nell'orario di cena, qui non c'è limite, potete fare i lavori che volete, non c'è nessun problema, più volete fare e più guadagnate, dunque sabato sera insomma è stata una bella serata, abbiamo guadagnato bene, quindi mi sembra che abbia venduto e parlo di venduto perché noi camerieri siamo un po' più considerati come venditori, credo di aver venduto circa 2000 dollari in tutta la serata e normalmente la mancia che si guadagna è intorno al 20% perché qui soprattutto questi ristoranti un po' chiamamoli in, medio alti come il mio ristorante, insomma si hanno clienti e oltretutto i New Burbici non sono abbastanza ricchi, si hanno ottimi clienti quindi le mancie sono sempre normalmente di media, alla fine serata il 20% ma molto spesso anche di più, io per esempio ho avuto un tavolo sabato di 6 persone, hanno speso 330 dollari, mi hanno lasciato 100 dollari di mancia, perché? Perché quello che conta e noi italiani ce l'abbiamo un po' insomma nella genetica no? Di essere amichevoli e di creare un colloquio con il cliente, quindi non è solo riguardo alle vendite e anche insomma riguardo all'esperienza che il cliente ha e siccome il cameriere è quello che approccia il tavolo ed è quello che gestisce il tavolo, nel senso che è responsabile del tavolo, ovviamente è importante creare questa diciamo relazione con il cliente e quando questa relazione va bene, diventa amichevole, sempre con un certo rispetto ovviamente che io sono il cameriere e loro sono i clienti e molti clienti ti chiedono dell'Italia, chiaramente essendo in un ristorante italiano ti chiedono del cibo, degli ingredienti, insomma c'è tutta questa situazione, questa relazione che si crea e quindi quando questi clienti insomma capiscono che tu ci tieni, ti trattano molto bene. Ora, quindi tornando al discorso, su 2000 dollari il 20% sono 400 dollari di mangi che ho fatto sabato sera, che ovviamente però viene divisa, praticamente ogni cameriere guadagna la propria mancia dai tavoli e a fine serata si vanno i conti e queste mance vengono date al cameriere cash, quindi si esce con il cash in tasca, ora però queste mance vanno divise con gli altri componenti del ristorante perché qui in America non c'è praticamente il cameriere che fa tutto, ci sono alcuni ristorantini piccoli dove ancora si fa così, ma qui, soprattutto nei ristoranti come i miei che fanno 7-800 mille persone al giorno chiaramente diventerebbe veramente difficile lavorare in questo modo, per cui nel ristorante ci sono altri personaggi, quindi ci sono i busboy che sono quelli che normalmente qui in California sono quasi tutti messicani e perché ne sono quelli che fanno il setup del tavolo e poi puliscono il tavolo appena il cliente ha finito e lo risettano per il cliente dopo, inoltre girano per i tavoli e ci aiutano a tenere pulito il tavolo tra un corso e un altro e più fanno il refill, cioè riempiono i drink e quelli non alcolici ai clienti e questi ragazzi insomma lavorano parecchio perché chiaramente girare i tavoli è molto importante, in 3-4 ore di lavoro più clienti si fanno sedere e si fanno finire in un tavolo e più soldi si fanno, questo è il senso del discorso. Oltre ai busboy ci sono anche i bartender che sono le persone che stanno al bar, il mio ristorante è un bar grandissimo, poi lo vedremo in questo video perché faccio una piccola ripresa veloce, non ho ancora chiesto il permesso ma probabilmente riuscirò a fare un video nel mio ristorante giusto per farvelo vedere, però il ristorante è molto carino, è molto grande oltretutto e il bar che è molto grande ha questi normalmente 2 bartender o 3, dipende dalla giornata, come il sabato per esempio se ci hanno molte persone si hanno anche 3 bartender e questi bartender praticamente fanno i cocktail e i drink e i vini per i clienti al bar e per noi camerieri che mandiamo all'ordine dei drink, ci danno le bottiglie di vino eccetera eccetera e inoltre questi tip vanno divisi anche con le hostess che sono le ragazze che sono all'ingresso e che accolgono i clienti e poi li siedono nelle varie sezioni di noi camerieri. Inoltre un altro personaggio con cui dividiamo il nostro tip è il runner, il runner è il personaggio che prende praticamente il cibo che esce dalla cucina e lo serve al tavolo, ovviamente c'è un metodo che ovviamente noi sappiamo per cui noi prendiamo l'ordine, mettiamo l'ordine nel computer, mettiamo in hold, quindi mettiamo in attesa il main course, mandiamo gli appetizer, gli antipasti e in ogni ordine c'è l'ordine del cliente come sono seduti, per esempio un tavolo da 6 si sa che l'uno è solo a sinistra e quindi il runner prende i piatti e li serve, sa già a quale cliente va ogni piatto. Queste persone in totale prendono il 45% della nostra mancia, quindi io su 400 dollari più o meno che ho fatto sabato sera, il 45% sono circa 180-160 dollari, li ho pagati a questi ragazzi che sembra tanto, ma vi assicuro che grazie a loro si lavora molto meglio perché ovviamente quando il ristorante incomincia a essere veramente pieno avere 5-6 tavoli che possono essere, perché ogni tavolo si apre, possono essere da 2 fino a 6 persone, insomma capite bene che avere 30 persone nello stesso tempo magari un party grande di 20 persone più gli altri tavoli incomincia a essere insomma complicato perché si corre continuamente, poi oltretutto da noi insomma in generale in Italia ci si si è al ristorante e con calma 2-3 ore si mangia, insomma qui è diverso, qui arrivano, fanno cena massimo 40 minuti, i clienti vanno via perché non sono abituati come noi a stare a meno che non sono un party di 6-7-8-10 persone, ma comunque sia più di un'ora, un'ora e mezza non stanno mai, quindi tu sei sempre a recuperare, il tavolo finisce e viene sostituito da nuovi clienti, quindi questi 5-6 tavoli che si hanno sono sempre praticamente pieni, quindi si gira continuamente, ovviamente poi bisogna anche tener conto che durante il lavoro ti devi occupare di ogni cliente, di ogni drink, di ogni cibo, di ogni modificazione che chiedono perché poi qui in California essendoci insomma questa idea di essere healthy, ognuno cerca di fare modifiche, chiaramente si cerca di evitarle ma qualche volta qualcuno è allergico a gluten, qualcuno è allergico a altre cose, quindi ovviamente bisogna tener conto un po' di tutto questo, quindi queste persone aiutano tantissimo al nostro lavoro e a vendere più cibo praticamente, che quello insomma il punto di vista a livello business è quello, quindi praticamente un'serata insomma buona come quella di sabato si va via tranquillamente con circa 300 dollari o potrebbe essere anche di più, dipende insomma da quali clienti trovi, capite bene che lavorare per esempio 3 giorni a settimana e fare 300, diciamo come media 200 dollari a serata, avete fatto 600 dollari in 3 giorni, quindi 6x4 per 24 sono 2400 dollari al mese già più quello che avete preso di ore che è 13 dollari a oro, quindi a fine mese insomma il tema che avete lavorato 3 giorni, 5 ore al giorno sono 15 ore per 13 più i 2400 dollari di mance, chiaramente le mance non sono costanti però in generale a fine mese come media quelle sono le cifre che si fanno, ovviamente non tutti i giorni della settimana si fanno questi 2 o 300 dollari a serata perché chiaramente il fine settimana è molto più occupato e quindi si guadagna di più, però lavorando 5 giorni, altre serate insomma anche se si fanno 100 dollari, 120, 130, 140, ovviamente a fine mese capite bene che si arriva facilmente a cifre di 4000, anche 5000 dollari, migliori camerieri, no? Sente presente che adesso ci si pagano anche le tasse, prima quando sono arrivato io non ancora c'era una normativa per quanto riguarda le tasse sulle mance perché le mance vengono pagate sia sulla carta di credito e quindi sono registrate dal nostro computer, ma molto spesso ci vengono pagate cash, quindi automaticamente non rientrano perché nessuno sa quale quantità di soldi il cliente mi ha dato cash, quindi in teoria escono fuori e allora il governo ha deciso di fare una cifra forfettaria, considera che noi quando lavoriamo sul nostro venduto prendiamo di media il 15% di mancia e quindi ci tassa su questo 15% che ovviamente come vi ho detto prima normalmente come media un pochino di più, ok? Ok, ed ecco questo è quello che vi sto dicendo in macchina più o meno per farvi capire, quindi proprio perché parliamo del ristorante in cui sto andando a lavorare giusto per darvi un'idea di quello che potreste fare se nel caso vi trasferite qui in California, chiaramente avrete bisogno del permesso di lavoro, ma soprattutto se venite come studente qualcosa si risolve sempre, normalmente le soluzioni si trovano poi sul posto, chiaramente capite bene che sono cifre differenti, però dovete anche capire che la California è molto più dispendiosa dell'Italia, questa poi oltretutto che è una zona molto carina come vedete, insomma dalle strade, dalle case, è una zona molto curata, quindi pagare l'affitto, io ovviamente vivo con mia moglie, quindi siamo in due che guadagniamo più o meno le stesse cifre per cui pagare 2.500 dollari di affitto al mese o se comprate casa comunque un mutuo di circa tra i 2.500 e i 3.000 dollari al mese, diventa insomma difficoltoso da solo, se guadagnate 4.000 dollari al mese da solo pagare questi affitti è un po' alto, però tenete presente che da soli se si guadagna 4.000 dollari al mese più o meno ci se la fa tranquillamente, se si guadagna 5.000 si vive molto bene, abbastanza bene da soli, chiaramente sto parlando di zone come Newport Beach, come Los Angeles o come West Hollywood, dove ovviamente queste sono le cifre per vivere, perché poi oltretutto dovete considerare che anche le cifre del cibo e delle materie prime che comprate durante il giorno per vivere sono un po' più alte dell'Italia, sono circa tre volte più alte, anche il mangiare è molto più costoso, l'unica cosa che costa di meno in California è l'energia, quindi sia il gas, l'elettricità, tutte queste cose qui la benzina costano molto di meno, ma il resto, è la tecnologia, ma il resto come il cibo, soprattutto italiano, il vestito, insomma costano un pochino di più, anche se poi ovviamente ci sono negozi dove si può andare e spendere molto di meno se si vuole, però in generale la cifa da guadagnare in America per vivere bene sono da solo, sono almeno 5.000 dollari al mese, 5.000 dollari al mese, insomma vi permettono di vivere in un appartamento con una camera da letto che costa su intorno ai 1.800-2.000 dollari, dipende da quale zona e da quale appartamento preferite, se andate su un monolocale ovviamente spendete un pochino di meno, ma siete sempre su 1.500-1.600 dollari, ormai gli affitti qui in California sono saliti tantissimo, ovviamente le cose cambiano se parliamo di una coppia e soprattutto di una famiglia, una famiglia con due genitori, con due bambini ovviamente devono guadagnare come minimo 8-10.000 dollari al mese per vivere bene, perché ovviamente tra le spese della casa e le spese dei bambini, e quando dico spese dei bambini non mi riferisco solo al mangiare, a quelle mediche, mi riferisco anche alle scuole, le scuole qui buone si pagano, si pagano cari, quindi quando dovete spendere 30.000 dollari all'anno, 20-30.000 dollari all'anno per le scuole elementari e superiori per bambino, anche se poi c'è qualche sconto per il secondo bambino, insomma capite bene che pagare 60.000 dollari all'anno, che sono insomma una bella cifra su 5.000 dollari, incomincia a essere difficile, quindi ne dovete guadagnare almeno 10.000, questo 8-10.000 dollari se con una famiglia si incomincia a guadagnare, a vivere decentemente, quindi capite bene che si guadagnano queste cifre, ma insomma c'è bisogno di guadagnarle, quindi c'è bisogno sempre di avere un buon lavoro. Quindi chiaramente non il doppio, però perché a pranzo normalmente si guadagna un pochino di meno come percentuale di mangio, perché la gente che viene a pranzo è più la gente che sta al lavoro, che quindi viene a mangiare velocemente, però in generale capite bene che dai 4-5.000 dollari al mese si può passare a 6-7.000 dollari al mese da solo, lavorando, e quindi chiaramente si ha la possibilità di guadagnare abbastanza anche per la famiglia. Chiaramente dipende dalla zona dove vivete, ma in generale gli affitti sono più o meno quelli che vi ho detto, anche nelle zone un po' meno costose, si risparmiano 2-300 dollari al mese, non di più. Per quanto mi riguarda qui l'idea è, ed è un po' l'idea che ho io, non è tanto di risparmiare per vivere in un posto carino, ma l'idea in generale della California è il lavorare di più, per guadagnare di più, per permettersi di stare in un posto migliore, ed è questa un po' l'idea, non c'è l'idea un po' come da noi di risparmiare e di accontentarsi per arrivare a fine mese, proprio un po' un'idea opposta che fa dell'America in generale un po' questa, insomma fa girare un po' questa economia. Si tende sempre a lavorare molto di più, a guadagnare molto di più per avere di più, quindi per vivere in un posto migliore, per potersi permettere altre cose. Quindi c'è un sacco di gente che fa tanti lavori, lavora tantissime ore al giorno, per esempio i messicani sono una di quelle popolazioni che non diciamo sempre, sono svogliati, ma la realtà dei fatti è che siccome fanno famiglie numerosissime, fanno sempre due o tre lavori i mariti, due o tre differenti lavori per guadagnare abbastanza. Poi tenete presente ovviamente quando si hanno tanti figli si ha anche l'aiuto dello Stato e quindi si ricevono degli assegni mensili per ogni figlio e quindi in generale c'è anche questo aiuto che ogni anno cresce un pochino per dare una mano alle famiglie. Come sapete poi inoltre in questo periodo del virus qui in America hanno elargito e stanno continuando ad elargire da febbraio quando è scoppiata la pandemia. Ogni mese, ogni settimana, scusate che qui pagano, per esempio il ristorante paga ogni due settimane, in generale tutte le aziende nel 90% dei casi pagano ogni due settimane, vi danno l'assegno dello stipendio, quindi non è una volta al mese ma due volte al mese, ogni due settimane, c'è anche chi paga una volta a settimana, c'è anche chi paga una volta al mese, dipende dal contratto che si ha, ma in generale il 92-93% delle aziende paga ogni due settimane. Durante il discorso pandemia, quello Stato da febbraio ha elargito ogni settimana 450 dollari a testa per aiutare i lavoratori che non potevano lavorare, più un stimulus check, si chiama uno check per lo stimolo, perché chiaramente lo governo non vuole che l'economia si fermi anche se non c'è il lavoro, quindi vuole che la gente continui a spendere i soldi almeno per i beni di prima necessità e quindi ha dato ogni settimana oltre queste 450 dollari 600 dollari di check, di stimolo check e questo da febbraio fino a luglio, quindi praticamente ognuno di noi che non lavorava prendeva circa 1000 dollari a settimana, che è la cifra che più o meno si guadagna normalmente, anzi in molti casi, soprattutto nei casi dei latini era molto di più di quanto guadagnavano normalmente al lavoro, infatti a luglio quando hanno cominciato a riaprire molta gente non è voluta andare a lavorare perché guadagnava di più con i soldi dello Stato che al posto di lavoro, qualcosina in più, ma in generale adesso a luglio hanno fermato e scaduto questo stimulus check, quindi stanno continuando a dare 450 dollari a settimana, che anch'io sto continuando a prendere perché chiaramente non lavoro ancora a pieno regime, lavoro più o meno a on call, mi chiamano per i giorni che c'è bisogno, normalmente il fine settimana, due giorni, tre giorni a settimana lavoro sempre e da luglio hanno insomma riorganizzato questo stimulus check dei 600 dollari, l'hanno passato a 300, perché chiaramente capite bene che in America ci sono 360 milioni di abitanti e dare questo stimolo a cui stiamo arrivati al ristorante, lì a sinistra con le tende rosse del ristorante, adesso andremo nel parcheggio e questo stimulus check ovviamente insomma sta usando un po' tutte le fonti monetari dell'America, quindi l'hanno passato a 300 dollari proprio per evitare che la gente non vada a lavorare perché guadagna di più, quindi adesso in questo periodo si prendono 450 dollari a settimana più 300 dollari di stimulus check, che sono comunque 800 dollari al mese, che sono una bella cifra per aiutare, ovviamente sono tassabili, molti soldi saranno ripresi dallo Stato per quando si pagano le tasse, ma più o meno quello che guadagniamo e quello che paghiamo le tasse normalmente quando non c'è la pandemia, per cui è tutto ok, qui adesso siamo arrivati nel video al parcheggio che è gratis del Fashion Island, come avete visto, questi parcheggi sono tutti gratis perché bisogna rendere facile ai clienti arrivare, parcheggiare senza perdere tempo, c'è praticamente servizi in America, i servizi come sapete sono veramente eccezionali, tutto è improntato per portare il cliente dai business, questo centro commerciale è bellissimo ed è stato costruito in questo modo, investono milioni di dollari in questi centri commerciali, questo è il ristorante dove lavoro, quelli sono i tavoli fuori, adesso facciamo una, poi torno al discorso del Fashion Island, questo è il ristorante che si chiama Canaletto, ce ne sono due nel mondo, uno è qui a Newport Beach e un altro è a Las Vegas dentro l'hotel Casino il Venetian, quindi se andate al Venetian in vacanza a Las Vegas potete mangiare bene, questi sono i tavoli all'esterno e vedete le macchine, normalmente lì c'è anche il valet, questo è l'ingresso, uno dei miei manager e poi vi farò vedere il ritorno quando cammineremo indietro una piccola ripresa interna dalla porta e qui adesso camminiamo verso il mall diciamo, il Fashion Island, come vedete è come i nostri mall, solo che i nostri mall sono al chiuso e qui invece sono all'aperto e vedrete insomma come vedete molto spazioso, pulito, questo è un altro dei ristoranti in Ardekigen che è insomma il nostro concorrente, ma come sapete dove c'è concorrenza c'è mercato e quindi chiaramente tutta la gente sa che venendo in questa area del Fashion Island hanno il cibo migliore, come vedete i tavoli fuori, chiaramente oggi poi oltretutto in questa domenica ci sono 27-28 gradi con un leggero venticello che viene dall'oceano che è molto vicino qui, quindi si sta benissimo nei Mont Marcos Louis Vuitton, come vi ho detto questo è un centro commerciale abbastanza insomma di un certo livello, molto carino, tenuto benissimo, c'è un tantissima sicurezza, guardie di sicurezza che tengono tutto sotto controllo, Polizia Ottimorchese, insomma è veramente organizzato bene, chiaramente ci sono spazi, fontane e giardini per i bambini con i giochi, poi li vedremo più avanti, è tutto organizzato per mantenere le famiglie il più possibile in questo centro commerciale che ovviamente è grandissimo e quindi stare 3, 4, 5 ore in questo centro commerciale diventa praticamente divertente, anche normale, quindi ovviamente che tutta questa gente poi si verra stando tutte queste ore devono anche mangiare, quindi si vengono al ristorante o altri posti per mangiare intorno al centro commerciale. Come dicevo questo centro commerciale ci sono persone che investono milioni di dollari per costruirlo e affittano ai negozi, ovviamente a grandi affitti vi assicuro, adesso non so il mio ristorante quanto paga ma vi posso dire quello di Beverly Hills, il ristorante che pagava 60.000 dollari al mese di affitto ed era un ristorante che è la metà più o meno di quello che c'è qui, adesso immagino secondo me che il mio ristorante è così a occhio, nel senso perché so un po' come funziona sicuramente pagherà intorno ai 35-40.000 dollari d'affitto perché è molto grande, perché insomma le cifre qui sono, essendo un centro commerciale forse sono leggermente più basse di Beverly Hills che è proprio una zona residenziale, chiaramente ci sono i negozi insomma un po' più famosi, di marche più famose sia italiane che americane e che di francesi, un po' di tutto il mondo, è in questo centro commerciale ma vedete è molto grande, io sto facendo un po' un giro per farvi vedere un po' tutto come è organizzato, normalmente domenica è un po' più afferlata anche se c'è insomma un certo numero di persone, il sabato normalmente ancora è veramente molto molto pieno, ecco qui a sinistra c'è insomma un po' di tavolini per stessi a mangiare dovunque perché potete prendere e mangiare da sporto in qualunque piccolo ristorantino o bar e qui a sinistra adesso vi farò vedere un po' più avanti c'è un laghetto, questo è il negozio Rolex, ci sono anche altre giellerie insomma come vi dicevo è un centro commerciale un po' completo, c'è un po' di tutto dall'abbigliamento, c'è anche qualcosa, c'è Mesis, insomma tutti i grossi nomi ci sono un po' tutti, adesso qui a sinistra poi mi stavo provando ad andare a destra ma siamo vicini alla concessionaria Tesla, allora ho deciso di tornare indietro per vedere se ci facciano filmare nella concessionaria Tesla, le Tesla, poi dopo continueremo ad andare in giro in questi svariati corridoi che vedete ma il centro commerciale è enorme e quindi c'è proprio da passeggiare, da rilassarsi poi con la temperatura che c'era questa domenica mattina era eccezionale, ovviamente come vedete che molta gente veste la mascherina, non è più obbligatoria perché nella mia zona che è qui Orange County e Dustin e Newport Beach i casi sono molto basi, non ci sono veramente pochissimi casi quindi stanno tentando di riaprire piano piano, infatti il mio ristorante è aperto anche all'interno adesso al 25% di capacità, questo è un laghetto dove i bambini ovviamente amano andare, come vi ho detto ci sono tavole dappertutto, dopo ci si ferma e ci si può prendere caffè oppure si ordina da mangiare e poi ci si siede a mangiare, c'è questo laghetto con i pesci, i bambini ovviamente sono super attratti, come vedete sono pesci enormi e insomma ci sono un po' tutte le attrazioni per tenere le famiglie ore a ore insomma a camminare in questi negozi per poi essere attratti da questi negozi e comprare, insomma spendere soldi, che è un po' quello che è l'idea dell'economia americana, con i soldi si guadagnano ma si spendono anche, è un po' organizzata proprio così, queste riprese oltretutto le ho girate col telefono, ecco sotto questi portici andando più avanti c'è quella concessionaria Tesla che vi dicevo e infatti adesso ci avviciniamo per tentare di filmare le macchine per esempio nella concessionaria Tesla dove ci siamo fermati nell'altro video, c'era insomma era un negozio un po' più piccolino, un po' più separato, qui invece ci sono persone che sono un po' più nel business, c'era anche il manager, quindi quando sono entrato adesso lo vedrete, insomma parlerò in inglese con lui, gli chiederò il permesso, gli spiego che sto facendo un video per gli italiani, per fargli vedere la Tesla in italiano per Youtube e lui tranquillamente mi ha autorizzato a filmare la macchina, l'unica cosa è che ho potuto filmare la macchina, questo è un negozio a fianco e le persone, insomma la ragazza era contenta di essere ripresa, questa è la concessionaria Tesla, quindi sono entrato e ho chiesto subito alla persona che era lì diciamo al banco, ecco perché abbasso il telefono in inglese se potevo filmare, gli ho spiegato, lui mi ha detto che non c'era problema e quindi ovviamente abbiamo iniziato a filmare, l'unico problema che ho avuto è che come vedete vi ho visto le mascherine Tesla che mentre ho filmato il negozio non ho potuto filmare all'interno della macchina perché le macchine sono chiuse, perché ovviamente c'è il coronavirus ancora, quindi per evitare che le persone entrino in macchina per vedere la macchina e per evitare le persone che vengono contagiate, avete visto che c'erano 3-4 persone che stavano dicendo quale macchina comprare, ma in generale i negozi della Tesla vedete che sono quasi dei negozi da arredamento, ci sono una o due macchine, dipende dalla grandezza del negozio, i negozi più grandi hanno tutte e 3-4 i modelli esposti, quindi si guardano i modelli e dopodiché sì, quelle non le persone che stanno diciamo decidendo quale macchina comprare a destra del tavolino, è molto semplice, molto alla mano, è molto tranquillo fare insomma entrare in questi negozi, non c'è niente di, anzi siete super welcome, siete super benvenuti e anche se andate solo a chiedere, gente molto gentile, chiaramente il nome della compagnia è molto importante, per cui ecco qui ho visto che la macchina era chiusa e quindi ho chiesto e mi hanno spiegato che per il coronavirus non possono tenere la macchina aperta, però in generale come vedete insomma in tutto il negozio ci sono tutte le situazioni Tesla, quello bianco in alto a sinistra è il Tesla Wall, il pacco batterie che qui in California viene molto usato, perché chiaramente la California è uno di quelli stati con più ore di sole giornaliere e quindi molte delle case, soprattutto chi compra a casa monta i pannelli solari perché guadagna, risparmia un sacco di energia e magari compra la Tesla e quindi con il Power Wall carica questo Power Wall dal sole e poi usa energia sia per la casa e sia per caricare la macchina, quindi praticamente ha una Tesla che anche se a livello di prezzo magari non è bassissima, però a livello di risparmio è notevole perché si paga qualche soldo in più per comprare la macchina, però è praticamente, la macchina è gratis perché non ha praticamente quasi manutenzione a parte i freni che oltretutto si consumano il 40% in meno riguardo rispetto ai freni della macchina normale perché la macchina elettrica frena praticamente da sola, si usa il freno proprio o per emergenza o per fermarsi, quindi negli ultimi 5-6 metri, questo un po' in tutte le macchine elettriche e oltretutto tra lo scarico delle tasse che si ha qui in America comprando una Tesla e considerando che l'energia ve la fate a casa gratis con i pannelli solari, ovviamente la macchina diventa un costo quasi zero. Qui adesso continuiamo il video, il video è molto lungo perché chiaramente ho tentato di filmare un po' tutto il centro commerciale, di andare in giro, avevo circa un'oretta prima di entrare al lavoro e vi faccio vedere un po' il resto, la grandezza di questo centro commerciale. Adesso continuo nel centro commerciale, questo è Mesis, ovviamente vedete che è tutto organizzato, insomma per stare qui e vivere una giornata in famiglia o tra amici tranquillamente. Questa è un'altra ala perché, ripeto, è molto grande, un po' più avanti, qui adesso entro mi sembra a giro a destra per far vedere perché non si vede bene ma in fondo lì c'è l'oceano, già si vede l'oceano perché siamo molto vicini, siamo a Newport Beach, quindi siamo molto vicini all'oceano. Sono arrivato qui, insomma in questa zona giusto per far vedere il parcheggio, c'è la bagniera americana sempre presente dappertutto e qui sono veramente proprio patriottici a 3000, quindi le bagniere americane sono dappertutto. Questi sono altri parcheggi dall'altro lato del Fashion Island, quando si dice, è scritto Fashion Island ma si dice Island e non si pronuncia la S quando si dice Isola Island. Chiaramente qui vicino c'è l'oceano, quindi ecco perché avevo provato a far vedere l'oceano ma è un po' lontano, però come avete visto c'è questo leggero venticello fresco che praticamente fa di questa giornata, veramente una giornata eccezionale come temperatura, veramente notevole, infatti c'è tantissima gente a spasso come vedete con i bambini perché non è troppo caldo, normalmente ci sono giorni in cui veramente fa troppo caldo e quindi andare in giro diventa problematico. Adesso facciamo qualche altro giro intorno a questo rientro commerciale per farvi vedere, ma in generale noi continuiamo a parlare un po' di quello che è la California, come vi dicevo prima, si guadagna bene, questa è Vittoria Secrete, il negozio e questa è un'altra ala del centro commerciale, insomma camminerò comunque potete vedere queste immagini tranquillamente mentre parlo e vi rilassate. Ovviamente come dico sempre in California si guadagna bene, ci sono molte opportunità però chiaramente bisogna essere professionali e cercare per guadagnare bene, per esempio nel caso se siete un venditore di vendere bene, non è molto difficile, gli americani sono veramente assetati di cultura, specialmente per quanto riguarda la cultura italiana, sono molto curiosi, gli americani in generale ama l'Italia, quelli che sono venuti in Italia sono praticamente sconvolti da questa nostra cultura, dai monumenti, dall'architettura, sono veramente persi, questo è il negozio Apple come vedete in generale perché c'è il virus ma normalmente c'è sempre la fila negozio Apple o se c'è qualche negozio come questo che ha degli sconti particolari, la gente va presto e si mette in fila per soffrire di questo sconto, di questa promozione che è molto normale, vedete tutti in fila, questa è una delle nostre differenze tra cui l'Italia in generale, sono molto pazienti e sanno che fare la fila è una cosa un po' normale, questo succede un po' in tutti i posti, anche nelle poster, anche se in generale ci si può organizzare tutto online e quindi si può prendere appuntamento in questi negozi dal sito web e poi non fare la fila, quindi sono molte persone che cercano di evitare, in questo caso ovviamente perché il virus è la fila un po' obbligatoria perché si può entrare solo un certo numero dentro al negozio, un certo numero di persone, questi sono i tavoli all'aperto di un ristorante che si chiama, eccolo qui, California Pizza Kitchen, questo è un ristorante che è americano però è gestito da una parte della società da italiani ed è un ristorantino che è americano ma non è molto costoso ed ha molti piatti italiani e alcuni di questi piatti sono anche ottimi, magari non vi consiglio di prendere la pasta ma se vi trovate in vacanza in generale in California è uno dei ristoranti che vi consiglio dove andare perché fanno una pizza che è ok, decente e fanno una cotoletta alla milanese con la rugola, il pomodoro fresco molto molto buona ed è forse la cotoletta migliore che abbiamo mai mangiato qui, la milanese che abbiamo mai mangiato in zona perché nonostante anche il rispetto ad altri ristoranti italiani questo ristorante io e mia moglie andiamo spesso solo per quella cotoletta ed è fatta molto bene, vi consiglio, insomma quindi se siete in giro e in vacanza non sapete dove andare vi consiglio di trovare California Pizza Kitchen perché il prezzo è ottimo e perché si mangia abbastanza bene ok, è veramente un bel ristorantino quindi se volete evitare o non volete mangiare tutti i giorni al ristorante italiano che è ottimo come il mio o come altri che magari vi posso consigliare perché quando venite in vacanza magari scrivetemi nei commenti, vi consiglio un po' di posti e dei ristoranti dove andare qui intorno, quindi se non volete mangiare proprio all'italiana al 100% ristoranti ottimi dove spendete un po' di più potete sicuramente andare, inizialmente cercare di mangiare carne che è sempre meglio qui in California, però per esempio California Pizza Kitchen è uno di quei ristoranti che mi dà molta scelta, insalate eccetera, fanno anche la pasta, magari io non l'ho provata, non la consiglio anche se ho visto altri italiani mangiarla che è decente ma vi consiglio di prendere la pizza, le insalate e questa cotoletta la milanese che è eccezionale, non vi deluderà sicuramente, questo è Nostrom chiaramente adesso cercherò di, per esempio una cosa che devo dire, ho avuto richieste per filmare i supermercati e purtroppo nei supermercati sono andato a un paio di supermercati a provare ma c'è proprio il policy della compagnia che non fa filmare per una questione proprio di concorrenza tra i vari supermercati e quindi non posso fare questi video di supermercati, qui adesso sono entrato un attimo cercando di non farmi vedere, fare una ripresa veloce per farvi vedere quanto è grande, tenete presente che ci sono altri piani, sia sotto che un altro piano sopra di questo negozio, chiaramente è una delle aziende grosse e quindi per non chiedere il permesso sono entrato e uscito giusto per farvi dare un'occhiata ma in tutti questi negozi e in tutti i supermercati che volevate vedere purtroppo ci vuole il permesso ma in questo momento insomma il mio canale non è abbastanza grande, poi oltretutto è per un, voi siete tutti italiani, si rivolge a italiani e quindi chiaramente è un po' più difficile avere il permesso, comunque sia cercherò di farlo in ogni caso, da fuori come vedete insomma si può riprendere tranquillamente, non c'è nessun problema, questi sono un po' tutti i negozi del centro commerciale, insomma è abbastanza grande e un po' tutto costruito molto moderno, come vedete cercano di mantenere, di creare un po' di questa architettura un po' anche all'italiana, con questi archi eccetera, chiaramente un po' moderno però il risultato è piacevole, gli occhi è piacevole insomma per stare qui in famiglia, andare in giro, rilassarsi, ovviamente non è a pieno regime perché come avete visto anche nei negozi si può entrare un po' alla volta e perché c'è chiaramente ancora la pandemia e quindi ovviamente anche la gente insomma non si riversa completamente, insomma è un numero eccezionale in questo posto ancora, anche se incomincia ad essere trafficato, normalmente è molto più trafficato di quello che vedete, soprattutto la domenica, il sabato invece incomincia ad essere abbastanza pieno e infatti come vi ho detto prima nel ristorante abbiamo lavorato molto bene, è diverso insomma la gente che viene a mangiare, viene a mangiare comunque e infatti molto spesso siamo overbooked, insomma abbiamo parecchie riservazioni ma nel centro commerciale dove c'è più contatto con le persone è un po' più difficile anche se insomma si incomincia ad uscire perché ripeto nella mia zona per fortuna ci sono veramente pochissimi casi non come in altri stati o in altre città, per esempio Los Angeles non è ancora aperta a questo livello perché ci sono ancora dei numeri di casi che sono preoccupanti, che stanno scendendo ma come dico sempre non ci sono state regole dal governo centrale americano perché il nostro, il loro presidente non ha dato nessuna regola per lui, non esiste questo coronavirus e scomparirà per conto suo e secondo lui il vaccino uscirà a breve, cosa che è impossibile e quindi non ha dato nessuna regola ai governatori, quindi tutte le regole rispetto a questa pandemia sono state decise dai governatori che hanno dovuto decidere da loro stessi senza l'aiuto del governo centrale e quindi ogni stato fa un po' modo suo anche se insomma le regole basi sono quelle e ci sono stati che sono un po' più fermi come la California perché avevo avuto tantissimi casi e poi ci sono le aree, le contee dove ovviamente c'è gente più di un certo tipo e di certi geni sociali dove le cose vanno un po' meglio perché insomma si cerca, si tende a essere un po' più protetti e altre che sono insomma un po' più diciamo generalizzate come Los Angeles che dove ci sono molti più differenti tipi classi sociali dove chiaramente è più difficile proprio anche a livello di culture diverse cercare di tenere questa pandemia a livelli bassi fino a quando almeno non uscirà un vaccino insomma che sia chiamato tale che funzioni senza avere ripercussioni sulle persone. Stiamo tornando indietro per farvi vedere insomma dove siamo entrati, la fontana con questo piccolo obelisco dico piccolo perché qui in America quello è piccolo e stiamo tornando indietro perché io fra un qualche minuto devo iniziare a lavorare quindi passeremo di nuovo davanti al ristorante vi farò vedere adesso delle immagini, un po' qualche immagine del ristorante no? Vi farò vedere anche un mio amico e futuro socio perché vi annuncio che sto aprendo un nuovo canale youtube che è in inglese perché è fatto per la California, per i californiani perché praticamente avremo un canale per quanto riguarda l'agenzia immobiliare per le vendite di casa, questo mio amico che si chiama Luca ed è di Firenze che adesso vedremo, è il bartender del mio ristorante, lui ha la licenza per vendere case per real estate si chiama qui in America e avendo questa licenza lui può vendere case e mi ha avuto questa idea di fare questo canale youtube dove praticamente facciamo filmati a queste case e mansions grandiosa e bellissima, ecco lei è vestita più o meno come sono vestito io, io ho la cravatta e l'epron l'epron sarebbe il crempiule marrone come colore del ristorante, questo è il ristorante diciamo dove lavora il canaletto, questo è il patio che è aperto per poter far sedere la gente diciamo perché se è aperto e c'è l'aria si può sedere un po' più vicini, come vedete c'è già, ci sono già persone, qui siamo intorno alle 4 di pomeriggio perché gli americani si, questi sono i tavoli aggiunti sul marciapiede normalmente qui sulla strada dove vedete i berilli ci sono le macchine parcheggiate del valet parking, Ferrari, Porsche normalmente tutti i giorni, questi sono i tavoli fuori, adesso vi faccio vedere un po' velocemente dentro prima che mi arrestino, questo è il bar, quello è il bartender Luca di cui vi parlavo due minuti fa e poi il ristorante si sviluppa all'interno e lì in fondo lì a sinistra, lì a sinistra adesso dove vedete c'è quel cammino grande e quello è un altro patio che è coperto da un tendone anche se ci sono i muri intorno ma c'è questa tenda, questa è una delle hostess di cui vi dicevo prima e quindi abbiamo molti posti a sedere fuori per cui lavoriamo lo stesso tranquillamente anche, abbiamo lavorato lo stesso anche durante la pandemia eccetto per il periodo che hanno chiuso tutto, dove dicevo faremo questo canale in cui praticamente andremo a filmare queste case californiane, chiaramente tenete presente che in quest'area comprare una casa richiede un certo numero, un certo budget perché ovviamente cercare case in quest'area insomma diventa abbastanza costoso e quando parlo di case non parlo di appartamenti perché la casa in America è la casa, la classica casa familiare per ognuno per conto suo e qui in questa zona di Newport Beach, Orange County, ma in generale in tutta la California è una casa che costi meno di 750.000-800.000 dollari, insomma è una casa un po' troppo piccolina che non ha neanche senso comprare e quindi praticamente queste case, insomma con questi budget da 800 in su significa che è una casa carina, veramente bella, costa da milioni, 2 milioni, 3 milioni e i video che faremo sono andando anche mentions da 3, 4, 5, 6, 10 milioni di dollari, quindi abbiamo visto che c'è un'ottima risposta a livello di questi contenuti, quindi molte visualizzazioni possibili e lo facciamo insomma un po' come business sia per guadagnare da YouTube, perché come sapete vi ho detto la pubblicità su YouTube in America è pagata 3, 4 volte di più dell'Italia e anche perché vendendo le case insomma divideremo queste percentuali che si guadagnano e io e Luca insomma apriamo questa, chiamiamola così, società in cui filmeremo e lui venderà case perché è la gente e diciamo ci si organizza insieme per guadagnare un po' di chino di più. Per voi sarà molto interessante vedere queste mention perché vi faremo vedere insomma case che veramente sono particolari, molto moderne, molto veramente, soprattutto quelle che sono nuove, che sono costruite da poco, sono veramente fatte in modi eccezionali, molti spazi aperti, veramente bellissimi, quindi poi vi farò sapere quando il canale sarà aperto per invitarvi. Qui sono praticamente adesso, sono andato a lavorare ma in realtà quello che è successo è che sono andato, sono entrato al lavoro presso il caffè ma avevano fatto un errore per quanto riguarda il cameriere, ero un cameriere in più e quindi mi hanno chiesto se volevo andare a casa e ho detto di sì, perché? Perché comunque i soldi guadagnano lo stesso dallo Stato quindi non perdo nessun soldo e ho l'opportunità di lavorare sul video, infatti ho filmato il video, sono andato a casa e l'ho editato anche se insomma l'idea era andare a casa e allenarmi su Formula 1 perché adesso questo mercoledì che vedrete questo video oggi inizia il campionato di Formula 1 quindi mentre vedete questo video io probabilmente sto gareggiando e sto streammando live la prima gara del campionato TST F1 Racing che potete poi vedere sul mio canale perché rimarrà il video sul canale della live, rimarrà comunque sul canale Music & Gaming, ripeto il link è nella descrizione e vi invito ad iscrivervi anche lì dove vi ho detto prima potete vedere questo video reale, crudo con l'audio in cui sto parlando dalla macchina. Adesso questa è la strada che farò di ritorno, vi farò vedere un po' la Gembori e il viaggio lo taglieremo un pochino perché se no insomma diventiamo un po' troppo lunghi ma in generale questa è la strada che faccio per tornare, normalmente faccio una piccola deviazione per cambiare strada ma adesso in questo caso mi anterrò ecco qui in generale andrei a sinistra per fare la strada che vado a casa sulla MacArthur perché è un po' meno trafficata ma visto che stavo filmando vi faccio vedere la Gembori che è la strada principale che da Newport Beach attraversa, dall'oceano va verso l'interno quindi da Newport Beach parte e passa un pezzetto dentro Irvine e poi arriva a Tustin che è il posto dove vivo. Tutte le cittadine sulla costa californiana da nord a sud, da San Diego fino al nord della California quindi oltre Los Angeles sono tutte costosissime per vivere perché sono tutte città molto carine proprio come Pescara o come tutte le città nostre italiane sulla costa però sono molto moderne e sono molto considerate veramente diciamo posti speciali no perché l'americano in generale ama la natura soprattutto il californiano e ama la natura che sia il più selvaggia possibile no come vi ho detto già nell'altro video per esempio Malibu ci sono queste case bellissime sulla collina poi scende la collina quasi a roccia sulla mara e poi diventa spiaggia e come in tutte le spiagge della costa californiana non ci sono gli stabilimenti palneari come da noi la spiaggia è tenuta selvaggia per virgolette pulita dal comune, dalle cittadine che sono di proprietà quindi ci sono veramente abbastanza pulite però non bisogna portarsi ombrellone, sedie o affittarli lì sul posto non ci sono gli stabilimenti palneari come da noi dove si va si affitta mensilmente o per l'estate l'attrezzatura e si sta lì e si affitta l'ombrellone qui tutta la natura è tenuta gratis per tutti da usufrire veramente un principio fondamentale che gira per l'america in generale ma soprattutto per la california questa è la gembori come vedete insomma questa strada molto grande una delle strade principali che taglia come vi ho detto anche dentro il fine dove stiamo entrando adesso questo ponte il ponte che passa sull'autostrada 405 è una delle autostrade più trafficate nel mondo nonostante ci sia la pandemia è ancora trafficata perché la 405 praticamente collega la california da nord a sud da san diego fino a nord california è in queste zone soprattutto tra los angeles e san diego insomma è veramente molto trafficata perché ci sono tantissime persone che come vi ho detto anche altre volte viaggiano per lavoro su questa autostrada e ora come vedete questa strada sono tre corsie per senso le autostrade sono sei ma nonostante tutto c'è un numero una concentrazione di popolazione in california che è uno degli stati con più concentrazione di popolazione dell'america insomma è eccezionale e come è la new york lo stato unico lo stato della florida e alcuni altri paesi stati sono quelli con più popolazione e quindi chiaramente c'è un traffico che è veramente notevole e infatti in los angeles proprio si parla del di evitare la 405 a tutti i costi infatti i los angelini californiani in generale sono sempre un po' in ritardo perché si può calcolare partire in anticipo ma il traffico che si può trovare sulla 405 e praticamente non si può predire quale sarà il ritardo magari si parte presto ma non si sa quando si arriva perché veramente in alcune ore del giorno soprattutto quando tutti vanno a lavorare tutti tornano dal lavoro c'è un traffico veramente mostruoso infatti qui sto dicendo proprio che nonostante spendiamo insomma centinaia di migliaia di dollari per la tecnologia per migliorare la nostra vita e noi come clienti compriamo macchine e spendiamo dai 20 ai 50 mila dollari di macchine per viaggiare in realtà viaggiamo alla stessa velocità media del cavallo che sono mi sembra in california dei 17 mila orarie quindi si spende tutti questi soldi per andare a 17 mila orari di media insomma non è una grossa meta che è un grosso goal che abbiamo raggiunto bisognerebbe sicuramente andare un po' più veloce per arrivare prima o almeno puntuale nei posti dove si deve andare come vedete queste sono zone ditta di Irvine siamo non è proprio il centro città siamo in mezzo alla città e questa strada insomma l'attraversa completamente per poi riuscire nella zona dove vivo che è Tustin che è praticamente 3-4 miglia da Irvine e circa 9 miglia da Newport Beach quindi molto vicina all'oceano tenete presente che queste distanze per gli americani sono distanze che sono praticamente nulle perché fare un viaggio di 15-20 minuti mezz'ora per un americano è una cosa normale quello che fanno per andare a mangiare al ristorante vicino a casa o per prendere il caffè quindi diciamo sono veramente qui si dice che siamo vicinissimi 5 minuti si dice come per dire in realtà sono circa mezz'ora da casa mia al lavoro 25-30 minuti però per loro e per noi qui sono distanze che sono praticamente nulle si è vicinissimo mentre per noi in Italia guidare mezz'ora significa insomma andare in un posto abbastanza lontano ok? questo è un pezzo sempre della Jamboree che unisce Irvine a Tustin dove vivo io ok? praticamente quasi un'autostrada diventa questa diciamo super strada veloce per due miglia e quelle case che vedete in fondo è già Tustin quindi praticamente è attaccato ok? e quindi adesso arriveremo a casa tranquillamente e passeremo nella Jamboree che invece è proprio la strada principale di Tustin la cittadina dove vivo che io vi ho già fatto vedere nell'altro video in cui parlo insomma del posto di dove vivo diciamo che più o meno abbiamo parlato un po' di tutto ovviamente fatemi domande tranquillamente nei commenti mi raccomando mettete il like per l'algoritmo di Youtube su questo video e mi raccomando continuate a usare il link di Amazon cosa che molti di voi fan vi ringrazio basta che cliccate sul link vi apre Amazon e poi fate il vostro login come fate normalmente fate le vostre cose senza nessuna modificazione neanche di prezzo su quello che comprate mi raccomando non dimenticate di iscrivervi anche al canale music and gaming il link è nella descrizione perché lì potete vedere questi video che sto facendo con la macchina perché adesso essendoci pochi casi e la pandemia sta andando via ricomincerò ad andare un po' in giro ho attrezzato la macchina e grazie a voi con il link di Amazon sono riuscito a comprare questa camera che è una camera piccolina che è quella che vedete che mi inquadra in macchina è tipo GoPro ma molto poco costosa questa è 50 dollari di camera alta definizione stabilizzatore per l'immagine veramente notevole la vedete che mi inquadra in macchina e vi ringrazio comunque insomma se vi iscrivete e quindi in questo canale music and gaming oltre a vedere me caleggiare nel campionato di formula 1 nel campionato di assetto corsa quindi videogiochi vedrete anche musica a me suonare la chitarra quando ho tempo perché adesso con tutti questi impegni comincia a diventare difficile cercherò di focalizzare su meno cose ma focalizzare un po' di più però potete vedere anche questi video che sto facendo con la macchina quindi li farò in smr su questo canale mentre il video nudo e crudo reale naturale lo vedrete su quest'altro canale music and gaming quindi se vi interessano queste informazioni che dico che sono più o meno le stesse però no chiaramente lì in macchina parlo proprio sul momento quindi magari dico cose in più che non dico qui in smr potete vederli iscrivendovi al canale music and gaming ok vi ringrazio di essere qui come al solito stiamo diventando veramente tanti sono molto contento una cosa che vi raccomando e vi ho detto già nell'altro video è di se potete condividere questo video nei vostri media prima di tutto perché se cresce il canale insomma è sempre meglio e aiuta ad avere più visualizzazioni ma inoltre se condividete questo video sui vostri media create dei big links che internet vede e praticamente google e youtube mandano più visualizzazioni su questo canale ok quindi è importante che condividiate i miei video ai vostri nei vostri media ok vi ringrazio e ci sentiamo al prossimo video venerdì ciao a tutti